Grazie a tutti. Che vaffanile! Stringi forte. Vai. Solleva, solleva. È venuto, è venuto, è venuto. Distanti le gambe, distanti le gambe. Ok. Listo. I vomiti avanti. Ok, sei caldo. Infatti stavo per dire questa cosa. Su. Ok. Ok. Quando vuoi. Tira forte, tira giù forte. Vai, vai, ce l'hai. Vai, 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 vai. Ok. Ok. Grazie a tutti.